Ci ritroviamo qui sul luogo del delitto, per così dire, a Taranto, in via General Messina. Da una ventina di giorni, circa 20-25 giorni più o meno, si è aperta una voragine, un vero e proprio baratro, un cratere, un qualcosa di inimmaginabile e, vedete, sta qui. Quindi nessuno interviene, l'amministrazione comunale ha recintato la zona, peraltro è un punto anche strategico che insiste proprio dinnanzi ad una farmacia, ma al di là di questo c'è proprio l'assurdità che, dinnanzi ad una situazione del genere, che già denota una incapacità dell'amministrazione comunale di monitorare la sicurezza delle strade e quindi una realtà che mette a serio rischio l'incolumità dei cittadini. Bene, la cosa tremendamente assurda è che, ripeto, dopo tanti giorni non c'è segno di vita, nel senso che le transenne sono rimaste e non si è ancora provveduto a sanare la zona, a prendere provvedimenti, a valutare, a vedere in che modo si possa ripristinare la viabilità e la stessa sicurezza dell'arteria stradale, visto che evidentemente questo sprofondamento sottende una fragilità della superficie e quindi potrebbero, logicamente, anche verificarsi ulteriori crolli, ulteriori sprofondamenti. Guardate qui le solite transenne, polizia locale, comune di Taranto e, come si suol dire, chi si è visto si è visto, guardate, guardate, guardate qua giù, è impressionante questo baratro, proprio è un qualcosa di spettrale, ve lo voglio far vedere da diverse angolazioni proprio per rappresentarvi la profondità dello stesso, un vero e proprio cratere, un qualcosa che succede solo a Taranto, ma non accade solo a Taranto lo sprofondamento, ma a Taranto accade ciò che non si verifica in altre città d'Italia, ossia un'amministrazione assolutamente ferma, un'amministrazione assolutamente inerte. Che dire? Melucci dice che sta seminando e ha seminato la rinascita, lo dice lui e lo dicono i suoi assessori, quelli della corte di Melucci, Melucci e Company. Io però, anzi io, tutti i cittadini vedono non la semina della rinascita, ma la semina delle buche e dei crateri. Ah, maledetto quel giorno in cui l'avete rivotato!